Ciao, io sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Benvenuti in questo video. C'è chi pensa che dopo solo due anni un computer sia già vecchio e non più performante. Sappiamo però che grazie a GNU Linux è possibile ridare nuova vita a PC anche molto datati ed è quello che faremo in questo video. Ci tengo a dire che nel vostro caso probabilmente non ci sarà bisogno di ricorrere ai trucchetti e alle distribuzioni GNU Linux che vi mostrerò. Vi basterà installarne una qualunque e andrà benissimo così. Ma se avete un PC un minimo più datato allora rivolgetevi a qualcosa di più leggero. Faccio solo un po' di esempi. Linux Mint XFCE Edition, Ubuntu oppure qualunque altra distribuzione con un ambiente grafico leggero. Ma nel mio caso cercheremo di fare qualcosa di più estremo. Cercheremo di ridare vita al PC che vedete in foto. Un PC che ha ben 20 anni di storia alle spalle. Quasi 20 anni. Un PC del 2006. Su questo PC era preinstallato Windows XP. Direi che non c'è alcuna possibilità di installare un altro sistema operativo Windows di casa Microsoft. L'unica possibilità è Windows XP. Io invece vi mostrerò una distribuzione assolutamente attuale, Debian, da me personalizzata. E poi Antix. Antix perché voglio mostrarvi una soluzione che funziona out of the box. Una soluzione facile da installare e da usare che chiunque può permettersi insomma. Va bene, cominciamo. Ed ecco a voi il portatili che utilizzeremo in questa dimostrazione un po' eccessiva. Si tratta di un ThinkPad T60. Anno di fabbricazione, il lontano 2006. Monta un processore Intel Core Duo T2300 da 1,66 GHz. Di RAM abbiamo solo 1,5 GHz. Grafica integrata e ancora un vecchio hard disk meccanico. Quindi non un SSD. È chiaro che se avessimo un SSD le prestazioni sarebbero migliori. Ma ho voluto lasciare tutto così per com'è, compreso l'hard disk meccanico. Adesso accendo il PC, vedrete che il sistema operativo impiegherà circa un minuto per fare il boot. È un tempo sicuramente molto buono per un hardware del genere, per l'hard disk meccanico. Va bene, allora il sistema operativo è semplicemente Debian, quella attuale. Debian 12 Bookworm. È possibile quindi installare un sistema operativo attuale, non specificamente pensato per vecchi PC? Sì, è possibile. Come vedrete, l'esperienza va dal non frustrante, da un'esperienza, diciamo, anche piacevole per applicativi leggeri, per un uso blando, è chiaro che non potete aspettarvi da un hardware del genere operazioni come editing video, giocare a videogiochi moderni, modellazioni 3D, eccetera. Un'esperienza che è sì frustrante è la navigazione sul web, perché il web moderno è pesante. Va bene, si è avviato OpenBox, in alto vedete il pannello Tint2, con le mie belle configurazioni. Tra qualche secondo si avvierà anche il browser Firefox, ho installato Firefox, nonostante Firefox non sia il browser più minimale e più leggero possibile. Va bene, intanto vi faccio partire una traccia musicale, tanto per farvi vedere qualcosa. Apro un emulatore di terminale, ecco qua, vedete si è aperto Firefox. Adesso vado su un sito che è un frontend per YouTube, YouTube è un sito molto pesante, comunque faremo anche il tentativo su YouTube. Adesso cerco il mio canale, caricherò un video, vediamo come va. Quindi siamo partiti dall'esperienza più frustrante, la navigazione sul web. Sta partendo il video, eccolo qua, magari lo mettiamo full screen. Va bene, ce l'abbiamo fatta. Mettiamo in avanti il video. Si, funziona. Va bene. Andiamo su YouTube, vediamo come si comporta proprio il sito YouTube. e vedete che è molto lento a caricarsi. Va bene, interrompiamo questa esperienza un po' spiacevole e vediamo qualcos'altro. Ok, ad esempio il file manager, come file manager ho installato PCman.fm, questo si, funziona molto bene, molto leggero. Andiamo ad esempio su immagini, vi apro una qualche immagine. Ecco, vedete che è molto responsivo. Il visualizzatore di immagini è SXIV. Vediamo qualcos'altro. Andiamo su video. Apro questo video. Adesso si aprirà MPV. Ecco qua. Ok, vediamo di stressare un po' il sistema aprendo qualcosa. Ad esempio, vado sulla cartella documenti. Apro un PDF di esempio. Ecco, si è aperto. Questo è Zatura. Il visualizzatore di documenti PDF. Poi apriamo un documento Word. Ecco, qua ci impiegheremo molto tempo. Perché ho voluto installare LibreOffice. Comunque, il sistema funziona. Bisogna avere un po' di... Ecco, ecco che si è aperto. Ah, ma questo non è nemmeno LibreOffice. Questo è AbbeyWorld. AbbeyWorld è più veloce. Va bene. Quindi, cosa dire? Funziona Debian? Sì, funziona. Bisogna scegliere applicativi leggeri. Alcuni ve li ho nominati. Scusate che chiudo il video. Ok, bisogna scegliere applicativi leggeri. PCman FM come file manager va benissimo. MPV come video player va benissimo. Cos'altro? Zatura come visualizzatore di PDF. SXIV come visualizzatore di immagini. Cose di questo genere. LibreOffice è molto pesante. AbbeyWorld è una buona alternativa. Come foglio di calcolo Gnumeric. Adesso magari apriamo Gnumeric. Ecco che si è aperto. Quindi, vedete? Il sistema è utilizzabile. Fintanto che non si usa qualcosa di molto pesante. Va bene. Adesso vedremo un'altra alternativa per principianti. Come promesso, vediamo ora come si comporta una distribuzione Linux appositamente pensata per vecchio hardware. Questa è l'ultima versione di Antix. Ovviamente, anche essa ha 32 bit. Ho scaricato la ISO principale, la full. Non ho intenzione di cambiare nulla. Quindi vedremo come funziona out of the box. Allora, vediamo molto rapidamente il processo di installazione. Qua c'è un checking che interromperò. Già l'ho fatto. Andava tutto bene. Dopodiché ci chiederà di impostare il layout della tastiera. Quindi andiamo su Keyboard Settings e inserite la vostra tastiera. Andate su Italiano. Nel mio caso ho bisogno di un'altra tastiera. Va bene. Quella inglese la possiamo anche togliere. Non mi serve. Applichiamo. Fatto. Dopodiché andiamo su Next. E a questo punto installerò Antix come unico sistema operativo. Quindi un'installazione regolare sull'intero sistema operativo. Senza criptografia. Vado su Next. Ok. Va bene. Do Yes. Ed è partita l'installazione. Ah, Computer Name. Va bene. Lo lasciamo così. Antix 1. Immagino che in un passo successivo ci chiederà di inserire un nuovo username. Metto in video pausa e ci vedremo dopo. Ok. È stato molto veloce a copiare il nuovo sistema. Adesso dobbiamo andare ad inserire il locale della lingua italiana. Italiano. Eccolo qua. Eccolo qua. Va bene. Time Zone Europa. Roma. Vabbè, Berlino fa lo stesso. Ok. Tutto fatto. Next. Adesso lo username. Scriverò Luigi. E una password. Ok. Confermo la password. Va bene. Autologin. Tanto per sbrigarci. Next. Metto il video in pausa e ci rivediamo dopo. Ok. Il processo di installazione è finito. Come avete visto è molto facile da installare. Adesso io riavvierò. Effettuerò eventualmente degli aggiornamenti. Ma null'altro. Vi mostrerò Antix così per com'è. Ci vediamo tra poco. Siamo alla schermata del bootloader. Adesso avvierò Antix. Nonostante non abbiate visto il tempo di caricamento a partire dall'accensione del PC. Credetemi. Antix ci mette circa 15 secondi in meno rispetto a Debian ad effettuare il boot. Cosa che è molto molto buona. Vedete questa è la bellezza di Linux. Che Linux è scalabile. Vuoi un sistema per PC datati? Eccoti un sistema per PC datati. Vuoi un sistema per PC moderni? Eccoti un sistema per PC moderni. Ci vuoi fare un server? Ci vuoi fare un server. Ci vuoi fare un tostapane? Ci fai un tostapane. Ecco. Si è avviato Antix con il Windows Manager ICE WM. Veramente molto molto leggero. Come prima cosa apro un emulatore di terminale. E vediamo attraverso Htop le risorse utilizzate. I livelli di CPU sono molto molto bassi. Leggo circa 1% o 2%. Va bene. La RAM utilizzata è semplicemente 102 MB. Ebbene sì. 102 MB. Il totale è 1,5 GB. Quindi meglio di così è veramente difficile fare. Va bene. Apriamo il browser web. Il browser web predefinito è anche qua Firefox. Abbiamo visto che miracoli ovviamente non se ne possono fare. Comunque vediamo di stressare anche qua un po' il sistema. Ecco si è aperto Firefox. Adesso andrò su quel front end di YouTube che vi ho mostrato. Apro un video a caso. Do un po' di volume. Ok. Aspettiamo. Ops. Clicco. Vado in full screen. Va bene. Ci siamo. È partito. Ok. Testiamo anche YouTube stesso. Ci vuole un attimo. Ok. Non c'è nulla caricato. Cerco me stesso. Clarintux. E clicco su questo video. Ciao. Io sono Luigi di Clarintux. Va bene. È partito. Ora. Su Antix abbiamo veramente una marea di programmi preinstallati. Non ve li posso fare vedere tutti. Andiamo sul file manager. Il file manager si chiama ZZZ. FM non l'avevo mai sentito nominare. Ma è veramente molto leggero. Andiamo ad esempio sulla cartella video e facciamo partire questo video. Adesso io ho cambiato il lettore video, il riproduttore video di default che era celluloid. E qua ho messo invece MPV per non stare ad installare il codec. Comunque ce l'avete tutte e due preinstallati. Sia celluloid che MPV. Andiamo adesso su musica e apriamo questa traccia audio. Questo è il lettore, il riproduttore audio. Non so nemmeno come si chiami. Ma va bene. Fa egregiamente il suo lavoro. Ah, scusate. Riapro il file manager. Andiamo su immagini. Apriamo questa immagine. Il visualizzatore di immagini predefinito è Mirage. Quello da me preferito. SXIV mi sembra un pochettino più leggero. Ma comunque va benissimo. Va bene così. Stoppo la traccia audio. Vediamo un po' che programmi abbiamo. Il file manager, il web browser, come editor predefinito vedo Gini, ma c'è anche Leafpad. Poi abbiamo veramente una marea di applicazioni e la distribuzione è facile da utilizzare. Avete visto anche l'installazione? È molto semplice. È una distribuzione basata su Debian, quindi chi sa utilizzare Debian si sentirà. a casa propria. Niente, cosa posso farvi vedere? Ecco, queste sono tutte le applicazioni audio e video. Come vedete, Celluloid, che vi avevo nominato. MPV. Poi, di interessante, abbiamo per esempio lettore video YouTube. A posto di andare sul sito YouTube, scriviamo qualcosa qua. Ad esempio, scrivo Linux. Ed ecco mi ha trovato diversi video su Linux. Ad esempio, prendo questo, 60 comandi. E adesso si caricherà il video tramite MPV. Aspettiamo un po'. Eccolo qua. Va bene. Cos'altro posso mostrarvi? Applicazioni, accessori. La calcolatrice, che è Calculator. Va bene. Come vedete, il sistema è molto responsivo. A meno che non si vada a fare qualcosa di pesante. Allora, andiamo su Ufficio. E vedete che abbiamo preinstallato LibreOffice. LibreOffice. A parte LibreOffice, io personalmente avrei installato anche AbbeyWorld e Gnumeric, che vi ho mostrato. Comunque, vediamo quanto tempo ci mette ad avviare LibreOffice Writer. Ci metterà sicuramente un po'. Perché, ripeto, miracoli non se ne possono fare. Ah! Insomma, non è male. Si sta aprendo. Aspettate un po'. Ok, si è aperto. LibreOffice. Quindi, faccio un altro giro veloce. Vediamo cos'altro mi cade all'occhio. Giochi. Abbiamo due giochi. Un emulatore DOS, in realtà. Tra la grafica abbiamo Mpaint. Ad esempio, non Gimp. Internet. Tante applicazioni per Internet. Va bene, non ve lo mostro più di tanto. Niente, io direi che non ci sono più scuse. Basta recuperare un computer dall'immondizia, installarci Antix e quindi muovere i primi passi con Linux.